Siamo qui nel parcheggio San Giorgio, non distanti dal centro, vicino alla biblioteca, vicino ai vigili urbani. Questa è la situazione, potete sentire e vedere quanto l'acqua sia alta e quanto ci sia una situazione di estremo degrado in questo bellissimo parcheggio. Di fatto è assolutamente inutilizzabile. Questo è il parcheggio San Giorgio all'esterno, quindi al primo piano, al piano alto. Qui siamo al secondo livello del parcheggio, situazione complessivamente normale fino a che non si scende nell'ultimo livello. E questo, ripeto, è quello che troviamo all'interno dopo la prima porta. C'è qualcuno che sta scappando, perché evidentemente il mio arrivo gli ha creato qualche problema. Quindi, se un disabile si trovasse a dover parcheggiare qui, troverebbe questa bella situazione. Ascensori ovviamente non funzionanti. Perlomeno gli estintori sono quasi tutti intatti al proprio posto, con un intervento anche recente, dell'agosto del 2020. Anche da questa foglia sott'acqua si ha la percezione di quale sia il livello qui nel parcheggio. Quindi, bimbi, se avete barchette potete venire qui a giocare. Grazie. 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 Grazie.